Giochi d'azzardo? No, sì. Come passi il tuo tempo libero? Mi piace andare a correre, a volte ci vado col cagnolino e poi sto con i bimbi. Ma gioco alle slot, scommesse, in realtà non ho molto tempo libero. A che ora vai a dormire? Ma ogni tanto quando usciamo con gli amici è anche tardi, però poi quando metto a letto i bambini spesso vado con loro. Ma non saprei dirti a che ora vado a dormire, in realtà non riesco a dormire bene già da un po' perché il pensiero è fisso, non riesco a rilassarmi, penso a come recuperare soldi persi, a come recuperare il denaro. Come ti senti al mattino? In forma, faccio colazione e poi vado al lavoro. Stanca, con l'ansia e il pensiero ossessivo del gioco, è proprio così che vado al lavoro. Come procede il tuo lavoro? Ma un po' come tutti, diciamo alti e bassi, però dopo tanti anni finalmente quest'anno avrò la mia promozione. Io mi sento demotivata, perché comunque sono insoddisfatta, lo stipendio non basta mai, i soldi non bastano mai. Come procede la tua vita privata? Eh, anche qui un po' di alti e bassi, i figli comunque crescono, però io e mio marito siamo abbastanza bravi, devo dire che ce la mettiamo tutta per non fargli mancare niente supportandoli. Bella domanda, mio marito non si fida più di me, perché gli dico un sacco di bugie, lo stipendio finisce subito, non riesco a contribuire né alle spese né al mantenimento dei figli ovviamente, quindi automaticamente siamo in crisi. Come vedi il tuo futuro? Guarda, nell'immediato ti posso dire che sto organizzando una bella vacanza, perché siamo riusciti a mettere da parte un po' di soldini e finalmente quest'anno ce ne andiamo alle Maldive. Guarda, non ci voglio neanche pensare al futuro, io non riesco a vederlo il futuro, io penso soltanto a oggi, perché a me il futuro spaventa. La vita è bella ma passa in fretta, stai azzardando con la tua vita, attenti al gioco. La vita è bella ma passa in fretta, stai azzardando con la tua vita, attenti al gioco.